ops scusate ragazzi ho fatto un casino praticamente ho fatto delle prove con la campagna di Stellaris che voi sapete per vedere un po che cosa sarebbe successo più avanti se riusciva a sbloccare questa ascensione e vabbè li è casuale con le tecnologie come sapete e dopo pochissimi anni mi è uscita finalmente quella tecnologia che mi bloccava per prendere i perk alla fine sono riuscito a sbloccare quella sbloccare l'ascensione a provare questi shroud vi devo dire anche che la campagna era diventata difficilissima perché la federazione in cui stavo incuneato era veramente troppo debole e quindi avrei perso di lì a poco con molta probabilità o comunque rimasto in una fase di stallo e quindi come ho detto durante la live di ieri comunque ho intenzione con di continuare per sbloccare gli shroud per farvi vedere questa meccanica di gioco dopodiché avrei chiuso la campagna così e certo non arrivato fino alla fine dei tempi su stellarsi se c'è una fine credo non ci sia comunque cosa ho fatto volevo cancellare solo l'autosave visto che avevo continuato un po' ed ero convinto che stessi facendo quello invece ho cancellato interamente la campagna e come vedere al momento non ho save disponibile quindi mi dispiace avrei voluto farvi vedere come funzionava questa cosa dei degli shroud però è andata così comunque ad ogni modo stellaris è comunque un gioco che mi ha intrigato sicuramente il tipo di fazioni che ho scelto non era il massimo per la libertà di gioco perché mi sono trovato troppo chiuso potevo farsi le guerre ma guerre solo di liberazione o di difesa come ne ho fatte e però ho imparato tanto so che i ragazzi della traduzione italiana dovrebbero uscire a momenti con la traduzione della 1.6 quindi a me piacerebbe ripartire con una nuova campagna dove c'è stato l'aggiornamento a 1.6.1 come potete dire la adams quindi alcune migliorie prendere sicuramente una fazione un attimino più aggressiva o comunque non pacifista e provare qualcosina di un po' più divertente che sia questa ascensione non per forza spirituale magari qualcosina o andare verso la robotica o non lo so poi si vedrà senza fissarsi dei paletti e questo però me lo dovete dire voi se vi piace rivedere qualcosa in Stellaris un attimino più diciamo movimentato con la traduzione in italiano o meno altrimenti di giochi da fare ce ne sono sicuramente tanti interessanti infatti partirò con City Skylines una mini serie con il nuovo DLC a brevissimo e poi vorrei fare anche un po' la campagna non dico tutto almeno un paio di missioncine di Norman the Steel Division e tante altre cose che poi arriveranno con questo è tutto chiedo scusa ancora a quei pochi coraggiosi che mi supportavano in questa campagna però spero che comunque vi siano divertiti fin qui e vabbè vi rimane fantasticate pensate voi come sarebbe potuta finire quella campagna se non con un bel game over con questo è tutto vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione noi ci vediamo nelle prossime serie nei prossimi episodi ciao ragazzi